Oggi parliamo di futuro, ma cosa accadrà quando finirà questa emergenza? Come cambieranno le nostre abitudini? Che impatto ci sarà nel nostro lavoro? Pensiamo a livello proprio di abitudine lavorativa. Beh, all'inizio ci sarà subito un impatto, ci sarà una distanza sociale e sarà anche difficile recuperarla e in più ci sarà un altro aspetto. Le persone non vorranno più perdere tempo perché ci saremo accorti che delle cose che facevamo andando da una parte all'altra della città o addirittura da una parte all'altra d'Italia le potevamo fare seduti nel nostro studio e questo cambierà molto. Quindi il primo impatto nel nostro lavoro quale sarà? Il cliente vorrà approfondire molto di più la casa, vorrà vedere ancora di più foto, vorrà vedere ancora di più descrizione, capire luminosità, esposizione. Quindi un virtual tour sarà essenziale, un video della casa sarà essenziale, il mostrare la casa nel massimo delle sue potenzialità sarà veramente una cosa determinante. Questo che porterà riduzione degli appuntamenti vendita. Perché? Perché la gente approfondisce prima, ma magari compra subito. In che senso? Ho approfondito, vedo una casa, vado a vederla e l'acquisto perché in effetti corrisponde proprio a quello che cercavo. Quindi cosa accadrà? Sarà determinante avere il materiale e curare il marketing ancora di più, la comunicazione, la descrizione e tutti gli strumenti di cui ho parlato. Proprio per questo, siccome noi il futuro lo dobbiamo anticipare, oggi alle 10 e 30 c'è il corso sul marketing immobiliare tenuto da Federica Faini e lì inizieremo a scoprire come già oggi possiamo cambiare le cose e prepararci a un futuro che sarà luminoso. Io resto produttivo.